Visita istituzionale la prima in provincia per il presidente della regione Marco Marsilio per il secondo mandato del presidente Angelo Caruso. Sul piatto diversi temi ma soprattutto che la regione c'è e non manca di affiancare la provincia che svuotata di competenze ha comunque settori importanti e vitali come viabilità ed edilizia scolastica. Le province secondo Marsilio sono state troppo spesso bistrattate, definite sprecone, invece sono essenziali per il territorio e l'interscambio tra regione e provincia è davvero molto importante. Lo scambio di doni di oggi, testimoni, amicizie e collaborazione. Noi abbiamo attivato sin da subito con l'unione delle province abruzzesi guidata dal presidente della provincia dell'Aquila Caruso un confronto per rimettere a posto alcune rispettive e reciproche competenze, cercare di rimediare ai danni fatti dalla legge del Rio che ha svuotato di risorse più che di competenze le province. La regione non a caso spesso è costretta a mettere nella propria programmazione economica parecchi fondi, in particolare sulla manutenzione delle strade, perché le province non hanno assolutamente la possibilità, altrimenti con i fondi che gli riserva lo Stato, di poter mantenere questo patrimonio efficiente ed in funzione. Quindi c'è insomma un interscambio, una collaborazione e oggi siamo qui per approfondirlo. Molto felice il presidente della provincia, Angelo Caruso, della visita istituzionale alla presenza di diversi consiglieri, assessori e dirigenti. La visita del presidente Marsilio oggi rappresenta una pagina importante, un nuovo percorso, ma un percorso già avviato con grande attenzione che è la regione, guidata dal governatore Marsilio, è già riservato alla provincia dell'Aquila e alle altre province abruzzesi, da modista economico, finanziario e anche supportando tante azioni che noi abbiamo messo in campo, che poi hanno raccolto il sostegno e quell'azione decisiva della regione Abruzzo. L'occasione è stata utile anche per parlare del prossimo ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Ci sono state interlocuzioni tra Caruso, che è anche sindaco di Castel di Sangro, e numero uno del sodalizio calcistico, ma Caruso conferma a Rete 8 che si farà, manca soltanto la data, è un discorso in itinere. È una scelta importante che ha fatto la regione Abruzzo, l'ha fatta nell'interesse dell'intero territorio abruzzese, gli effetti sono ovviamente positivi, è un qualcosa che ha infranto un tabù, cioè secondo il quale i ritiri delle squadre e dei club più blasonati a livello nazionale potevano soltanto approdare alle Alpi. Il presidente Marsilio ha tradotto questa iniziativa nella possibilità di dimostrare che la regione Abruzzo è in grado di ospitare anche i club di quella portata. Quindi già parlate per il prossimo? Il prossimo, già in itinere, manca solo la data ufficiale.